Andiamo al segno dello scorpione, per voi cari scorpioni all'ascolto questo è un momento che sta per diventare magico oserei dire, soprattutto per l'amore, le avventure, per le nuove conoscenze, per il flirt certo la luna della serata non è una luna ideale per quanto vi riguarda ma mette sotto pressione proprio i rapporti tra le pareti domestiche quindi il rapporto coniugale, le lunghe convivenze che possono vivere dei momenti anche di tensione per gli altri, chi è libero, ancora una volta Venere, Sole e Marte vi daranno delle chance straordinarie attenti solo al lavoro amici dello scorpione perché in questo momento rischiate di andare in confusione